E' stata ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione di funzionari del Parlamento di Bosnia e Derdegovina. La visita rientra nel progetto di cooperazione europea, che vede il Consiglio regionale del Piemonte come modello di riferimento nella gestione della documentazione nella pubblica amministrazione. La Vicepresidente Comba ha una visita importante al Parlamento bosnieco a Palazzo Lascaris per studiare il funzionamento di un'assemblea legislativa. Sì, il nostro palazzo è sempre aperto nel rispetto della tradizione e della grande apertura nei confronti della grande tradizione dell'ospitalità piemontese a tutte le delegazioni internazionali. In questo caso oggi abbiamo l'onore di ricevere quella bosniaca, in passato abbiamo ricevuto tante altre delegazioni. Siamo certi che questo potrà confermare il motivo di relazione che la nostra religione vuole intrattenere e lo spirito di amicizia e solidarietà con i paesi vicini.